6.2004? No. 6.2002? No. 6.2003? Chapeau! Vuoi usare 18 app per ordinare il disco gratis? Chapeau! Penso che sia il disco migliore della storia? No. Non lo vuoi comprare? Amen. È la finitezza che conta, ventola. 6.2004? No. 6.2002? No. 6.2003? Chapeau! Vuoi usare 18 app per ordinare il disco gratis? Chapeau! Penso che sia il disco migliore della storia? No. Non lo vuoi comprare? Amen. È la finitezza che conta, ventola. 6.2004? No. 6.2002? No. 6.2003? Chapeau! Vuoi usare 18 app per ordinare il disco gratis? Chapeau! Penso che sia il disco migliore della storia? No. Non lo vuoi comprare? Amen. È la finitezza che conta, ventola. Non lo vuoi comprare?